a metà del 1957 finimmo finì le scuole di volo dell'aeronautica militare essendomi classificato primo mi si chiese quale destinazione preferivo chiesi il 51esimo stormo istrana treviso visto che sono di udine e infatti mi trovai a pratica di mare roma pericolo bellissimo comunque sulle 86 e questo quarta aerobrigata comandata dal colonnello annoni il decimo gruppo il maggiore veneri la mia squadriglia l'anno 92esima con zeno tascio con cui facciamo un po di capriole fino a maggio del 1958 quando lasciare aeronautica militare con circa 500 ore di volo e la transizione sulle 5 il p 148 al machi 416 il t6 il t 33 e le 86 e sempre con voli da molti voli da solista ovviamente entriamo in all'italia col mio gruppo nel 16 maggio del 1958 una l'italia ancora un po bonacciona ancora un po a conduzione familiare perlomeno l'italia degli generi belani padre padrone però l'anno prima proprio a settembre c'era stata la fusione con la lai e quindi si presentavano scenari nuovi e soprattutto possibilità anche industriali restava un retaggio della vecchia del vecchio modo di volare quando andavamo che su sud america i comandanti che erano stati da quelle parti prima della guerra facevano una fonia in portoghese con i brasiliani oppure c'era la rito di firmare l'attestato di battesimo dell'aria cioè c'erano dei diplomi che davamo a bordo firmati dal comandante che testimoniavano il primo volo di qualcuno il battesimo dell'aria la stessa cosa per il passaggio dall'equatore era e poi le abitudini operative il decollo dal cairo era obbligatorio a fare il giro sulle piramidi d'accordo con i controllori ovviamente del traffico che anzi erano orgogliosi che noi potessimo vedere le meraviglie delle piramidi di ghisa e della sfinge oppure il decollo d'anerobe quando andando a sud verso solsbury l'attuale a rare era obbligatorio a fare un 360 sui chili mangiaro era un modo che diverso di volare ma che era ancora pregno di tanti valori di umanità e di solidarietà fra gli equipaggi poi via via la cosa è diventata ovviamente di tipo più industriale e tutto è diventato un po indubbiamente più sicuro più certo ma anche meno attraente dal punto di vista umano